Amadeus terrorizzato da Fiorello, centra Maria De Filippi, ecco cosa è successo Il conduttore dei soliti ignoti ospite a Domenica Live di Mara Vernier Ieri pomeriggio fra i vari ospiti di Domenica Inn, alla corte di Mara Vernier si è presentato Amadeus La conduttrice veneziana ha realizzato una lunga intervista all'artista che il prossimo sabato 19 gennaio ripartirà con la nuova edizione di Ora o mai più La stagione 2019 sarà composta da sei puntate e disconterà contro la corazzata C'è posta aperte di Maria De Filippi Una concorrenza molto agguerrita visto che il people show di Canale 5 non ha rivali Anche due giorni fa, infatti, il programma di Queen Mary ha battuto nettamente la partita di Coppa Italia tra Juventus e Bologna, con ben 6 milioni di telespettatori A Domenica Inn, Amadeus ha precisato che tre puntate andranno in onda prima della 69esima edizione del Festival di Sanremo, mentre le altre tre dopo la Kermesse canora Fiorello mette paura all'amico e collega Amadeus Durante l'intervista a Domenica Inn, Amadeus ha ricevuto una bella sorpresa da un collega Stiamo parlando dello showman siciliano Rosario Fiorello con il quale ha lavorato insieme qualche anno fa L'attore e cantante gli ha fatto un grosso in bocca a lupo per ora e mai più e ovviamente non sono mancate le battute Ma una frase in particolare ha messo in allerta l'amico Tanto la concorrenza nulla di che, c'è solo Maria De Filippi con c'è posta per te Ha detto in modo ironico Fiorello Quindi per Amadeus si prospettano dei sabati abbastanza tosti perché contro avrà la regina della televisione italiana Anticipazioni ora o mai più 2019 con Amadeus Ma chi saranno i coach dell'edizione 2019 di ora o mai più con Amadeus? Allora quest'anno non saranno presenti Marco Masini, Patti Bravo, Michele Zarrillo e Loredana Bertè Quest'ultimi sono stati sostitui da, Toto Cuttugno, Donatella Rettore, I ricchi e poveri e Ornella Vanoni, affiancati da Fausto Leali, Redo Canzian, Marcella Bella e Orietta Berti Grazie a tutti